Vi leggo il titolo, dalla spagnola al Covid-19, un secolo di pandemie, scienza, società, economia e istituzioni fra progresso e disuguaglianze. Abbiamo invitato per trattarne il professor Paolo Mazzarello, che è un professore ordinario di storia della medicina dell'Università di Pavia e ha pubblicato dei saggi molto interessanti con bollati boringhieri e con buon piani, dedicati a personaggi importanti della storia scientifica. Ecco, si è anche occupato di temi che sono molto vicini a quelli abituali dell'Istituto, perché ha condotto una ricerca su Don Luigi Mazzarello, giusto fra le nazioni, che salvò fra gli altri lo zio di Primo Levi. Sì, ecco, chiedo scusa, dovete sentire i microfoni. Sì, ecco, grazie, in maniera tale che risulti forte e limpida la voce dell'oratore, soprattutto del professor Mazzarello, a cui abbiamo chiesto di proporci una panoramica proprio dal punto di vista della storia della medicina sulla pandemia, sulla storia delle pandemie e su come l'umanità ha dovuto rispondere a quelle che sono situazioni che nel passato si sono proposte in modalità diverse, ma con anche molte affinità, credo, rispetto a quelle che stiamo ancora vivendo. Io non vi teddio oltre, nel senso che ascoltiamo subito il professor Mazzarello con la sua lezione. Quindi a lui la parola e naturalmente poi al termine della lezione potremo interagire con lui, porgli delle domande e appunto approfondire i temi che ci presenterà nel suo intervento. Quindi a lei, professor Mazzarello. Grazie. Beh, innanzitutto grazie all'Istituto Storico della Resistenza di Varallo per l'invito. Io parlerò appunto delle pandemie nella storia, ovviamente concentrandomi molto sull'ultimo secolo, però farò anche delle proiezioni al passato e anche al remoto passato perché ci sono degli aspetti fondamentali nella storia dell'umanità e nella storia delle interazioni fra uomo e malattie, anche nel più remoto passato, che ci permettono di capire anche la situazione attuale. Allora io cerco subito di fare la condivisione, vediamo un po'. Vedete? Sì. Perfetto. Allora metto a... Ok. Dunque, ora volevo partire più o meno dagli anni Sessanta del secolo scorso, quando il Surgeon General degli Stati Uniti, cioè la massima autorità in tema sanitario degli Stati Uniti, il consigliere sanitario del Presidente della Repubblica Americana, se ne uscì con un'affermazione di questo tipo. È tempo di chiudere il libro delle malattie infettive e di dichiarare vinta la guerra contro le epidemie. Era un momento particolarmente ottimistico nella sanità pubblica. I vaccini esistevano da quasi 200 anni, erano stati introdotti nel 1796 da un medico inglese, Edward Jenner, il quale aveva visto che le ragazze che si infettavano mungendo le mucche acquisivano spesso una malattia delle mucche molto simile al vaiolo umano, perché bastava avere una piccola ferita nelle mani e si trasmetteva automaticamente dalla mammella delle mucche munte alle mani, si trasmetteva questa malattia che poi in realtà conferiva una immunità anche nei confronti del vaiolo umano. E quindi si iniziò la pratica di vaccinazione prendendo proprio questo materiale purulento dalle mucche affette da questo vaiolo cosiddetto vaccinico. Poi c'era stato Pasteur alla fine dell'Ottocento che aveva introdotto altre vaccinazioni, aveva esteso e generalizzato il principio della vaccinazione introdotto da Jenner e poi soprattutto erano esplose lungo tutto il corso del Novecento vaccinazioni contro molte delle principali e più funeste malattie infettive che avevano realmente flagellato l'uomo nella storia. Quindi gli anni Sessanta avevano da questo punto di vista un, come dire, permettevano di acquisire un atteggiamento molto ottimistico, un ottimismo promissorio anche guardando al futuro. E poi c'erano da circa vent'anni gli antibiotici. Gli antibiotici che ricordo erano stati, diciamo, inizialmente isolati nel 1928-29 da Alexander Fleming, un medico inglese, scozzese, il quale aveva isolato la penicillina, ma poi per dieci anni non se ne era fatta niente di questa identificazione, di questa scoperta, fino a quando due microbiologi britannici, Florey e Chain, Chain in realtà era un ebreo tedesco fuggito in Germania durante il periodo nazista, bene, questi due microbiologi avevano ripreso gli studi di Fleming e quindi avevano introdotto la penicillina, il primo antibiotico appunto che entrò poi in uso nel 1943 fra le armate alleate contro il nazifascismo. E gli antibiotici poi se ne erano scoperti moltissimi, c'erano stati ancora prima degli antibiotici sulfamidici che avevano un potere battericida inferiore, ma di fatto, diciamo, la resistenza agli antibiotici non si era ancora manifestata in maniera massiva, quindi anche lì sembrava che appunto questo mezzo rendesse appunto, per così dire, la lotta contro le malattie infettive in un certo qual modo definitiva. È vero che nello stesso periodo vi erano state alcune epidemie molto inquietanti, per esempio l'Asiatica 1957-58 che aveva provocato due milioni di morti. non c'erano ovviamente i media che ci sono adesso, quindi la gente, diciamo, sapeva, conosceva i pericoli, per così via, ma non c'era tutta l'enfasi che c'è anche adesso ovviamente nella diffusione delle epidemie nei giornali, nelle televisioni e così via. e poi c'era stata l'epidemia di Hong Kong 1968, pure un'epidemia influenzale come l'Asiatica, cioè una variante del virus dell'influenza e anche l'epidemia di Hong Kong aveva avuto un effetto piuttosto marcato con almeno un milione di morti. C'era anche la poliomielite. Appunto, chi è nato negli anni 50 e nei primi anni 60 si ricorda, diciamo, al ricordo dell'importanza di questa malattia, delle vaccinazioni che appunto erano state organizzate. una malattia molto antica, vedete nella stele egizia lì rappresentata, vedete un funzionario faraonico che ha il cosiddetto piede cadente, cioè una paralisi periferica con una atrofia dell'arto. Questo viene ritenuto dagli storici della medicina come probabilmente la prima raffigurazione degli effetti della poliomielite, perché la poliomielite è un virus che entra nel tubo gastroenterico, raggiunge poi il sistema nervoso centrale, va a colpire i motoneuroni spinali e dà una paralisi appunto dei muscoli periferici, scusate, del nervo periferico e quindi di un'atrofia muscolare. Peraltro, diciamo, questa malattia era già stata identificata nel corso del Settecento e comunque negli anni appunto 50-60 erano stati sviluppati dei vaccini, quello di Jonas Salk e soprattutto quello di Albert Sabin, che avevano risolto effettivamente la malattia, che esiste ancora in alcune zone dell'Asia e dell'Africa, ma ci sono oramai delle organizzazioni, diciamo, sanitarie, statali e anche l'OMS che stanno cercando di eradicarla completamente. Peraltro, esisteva ancora, sempre negli anni Sessanta, il vaiolo e qui vedete di nuovo una mummia, la mummia del faraone Ramsete V, che morì in giovane età con i segni di un'infezione vaiolosa. Vedete proprio le vescicole sulla cute di questa mummia che, diciamo, manifestano proprio, presentano proprio i segni del vaiolo. E qui ci sono altre raffigurazioni. Questa è una statua del Museo archeologico di Napoli, quindi è una malattia molto antica che ha accompagnato, diciamo, la storia umana lungo tutta la sua estensione, perlomeno dal momento della rivoluzione neolitica, come vedremo tra poco. Questa è una raffigurazione del vaiolo nell'antica Cina, nel 300 d.C. e questa è una divinità, appunto, che viene invocata in un tempio buddista a Bodhanath. Questa è una foto che ho fatto io ed è specificamente proprio, diciamo, una divinità preposta a controllare, come dire, a guarire dal vaiolo. Quindi il vaiolo negli anni Sessanta esisteva ancora, era ancora una malattia estremamente importante. Tuttavia, e questo è interessante, penso, dal punto di vista proprio della storia della sanità, tuttavia il vaiolo è stata la prima e per ora l'unica malattia infettiva per la quale si è arrivato ad una eradicazione completa. Nel 1967 l'Organizzazione Mondiale della Sanità decise che era giunto il momento per organizzare una campagna mondiale per eliminare completamente questa malattia dalla faccia della terra. Partirono infermieri, medici, funzionari dell'OMS, raggiunsero tutti i più remoti villaggi della terra, tranne ovviamente quelli della nuova Guinea, della foresta amazzonica, e si procedette ad una vaccinazione a tappeto di sostanzialmente tutta l'umanità. Nel 1977, dopo dieci anni da questo programma di eradicazione, si ebbe appunto l'ultimo caso di vaiolo spontaneo in Somalia. E vedete l'immagine in alto a destra, i medici e i funzionari che avevano organizzato questa campagna, che celebrano nel 1980 la completa eradicazione della malattia. Ora, questo atteggiamento promissorio, questo atteggiamento ottimistico che aveva, per così dire, informato gli ambienti medici negli primi anni Sessanta, ricevette un primo duro colpo significativo nel 1981, che è una data che in questa storia possiamo un po' considerare una sorta di spartiacque. Un medico americano, Michael Gottlieb, segnala al CDC, al Centro per il Controllo delle Malattie Infettive di Atlanta, in Georgia, il maggior organismo americano preposto al controllo delle malattie infettive a livello mondiale, segnala una strana malattia. Una malattia che provoca una immunodepressione, si trasmette tramite rapporti sessuali, le trasfusioni di sangue, cioè attraverso la via ematica. Era l'AIDS. E dopo l'81 ci sono state altre malattie, vedremo fra poco, Ebola, SARS, MERS e naturalmente l'ultima, che è quella in cui malauguratamente siamo immersi attualmente come epidemia, il COVID-19. Ora, in realtà, i problemi biologici posti da queste nuove epidemie possono avere una chiave interpretativa che ci proietta ad un passato remoto, da cui vorrei partire. Faccio una proiezione di circa una decina di minuti ad un momento significativo nella evoluzione dell'uomo, della civiltà umana sulla Terra, perché ci dà delle informazioni che ci permettono anche di interpretare ciò che è capitato proprio negli ultimi tempi. Allora, una domanda che ci potremmo porre è le epidemie e le pandemie, naturalmente, le pandemie non sono altro che epidemie estese a livello globale sul globo terrestre, appunto. Ora, le epidemie e le pandemie hanno avuto un'origine? Hanno sempre funestato l'umanità? Allora, bisogna partire da un dato. Fino a circa 11.000 anni fa l'uomo viveva in piccole tribù ed era raccoglitore-cacciatore. Questa è stata la condizione di gran parte della preistoria umana. Le donne si occupavano soprattutto della selezione e dell'approvvigionamento dei vegetali e dei frutti spontanei, gli uomini invece si dedicavano alla caccia, alla pesca, esistevano, diciamo, prima dei 11.000 anni fa, quindi nel periodo che, diciamo, viene definito Pleistocene, esisteva ancora la megafauna, il manmut, il bisonte delle steppe, l'orso delle caverne, il rinoceronte lanoso, e quindi l'uomo si spostava nel territorio dedicandosi, appunto, alla caccia. Ora, una domanda che ci potremmo fare è questa. Quanto grande poteva essere il gruppo tribale tipo dei cacciatori e raccoglitori? E vedrete che questi argomenti centrano molto proprio sulla storia delle epidemie e anche delle pandemie. Allora, questo gruppo di raccoglitori cacciatori, questo gruppo tribale, poteva essere grande a piacere? Allora, vi erano in partenza due fattori che limitavano la dimensione della tribù. Il primo fattore era le risorse che la caccia e la raccolta potevano fornire per il sostentamento. Naturalmente, se una tribù arrivava in un certo ambiente, cacciava la fauna presente localmente, le donne raccoglievano i vegetali, e naturalmente le risorse si esaurivano. E quindi questo era già un fattore che spingeva allo spostamento. E poi un secondo fattore che è stato identificato molto recentemente era il numero di relazioni stabili e durature possibili per ogni singolo membro dell'insieme. Allora, questo concetto è stato introdotto da un antropologo britannico, Robin Dunbar, che vedete qui, il quale ha provato a fare uno studio di questo tipo. ha cercato di vedere le dimensioni della neocorteccia, cioè della parte, diciamo così, più recente nella evoluzione dei primati, quella a cui sono ascritte le funzioni cognitive, le funzioni, il pensiero, diciamo così, l'intelligenza, le funzioni psichiche superiori dell'uomo. Ebbene, Dunbar ha cercato di metterle in relazione. e la dimensione della neocorteccia, ovviamente nell'uomo, ma andando giù, poi controllando la neocorteccia anche nei primati non umani, rispetto al numero di membri della tribù. E ha visto che mano a mano, in cui si verifica, mano a mano, che le dimensioni della neocorteccia aumentano, aumentano anche le dimensioni della tribù. Quindi per esempio negli scimpanze è di 30 individui e così via, e nell'uomo questo numero è di circa 150 individui. Questo numero di Dunbar è il numero di persone con cui un individuo mantiene relazioni stabili e continuate nel tempo. Esprime una sorta di limite cognitivo, vuol dire è il numero di relazioni che le capacità, le potenzialità mentali legate alle funzioni neocorticali hanno gli esseri umani nello stabilire relazioni di coesione, di cooperazione con gli altri membri del gruppo. Apro una piccola parentesi interessante. Tra l'altro, questo numero di Dunbar ha avuto applicazioni anche per esempio in ambito aziendale. Per esempio si è visto che il numero di persone che possono collaborare non può superare le 150 e quindi in certi uffici in cui c'erano magari centinaia e centinaia di individui, proprio dopo questi studi, li hanno riorganizzati nuovamente per non far mai superare questo numero di Dunbar. Lo stesso per le unità militari che devono intervenire di concerto, in maniera cooperativa, e sono molto efficienti. Se sono più di 150, le singole unità non sono efficienti adeguatamente e quindi anche qui il numero di Dunbar ha avuto una sua importanza. Non solo, ci sono persone che hanno migliaia di followers o seguono migliaia di soggetti su Facebook, ma in realtà le coesioni stabili, le relazioni stabili, anche lì non superano le 150. In sostanza il numero di Dunbar sostanzialmente ci dice che diciamo in questo diagramma a cipolla asimmetrica ci dice che ovviamente ognuno di noi ha i migliori amici o amici intimi che sono al massimo 5 persone. I buoni amici, coloro con i quali si possono trascorrere i sabati sera, sono una quindicina di persone. Le persone che si vedono spesso, quegli amici che non consideri intimi o stretti, ma che comunque senti abbastanza vicini, sono una cinquantina di persone e 150 persone è il numero di persone con le quali possiamo coltivare una relazione significativa. Allora proviamo a farci ancora quest'altra domanda. 150, come abbiamo visto, è il numero di individui che componevano le tribù dei cacciatori e raccoglitori. Esistevano le malattie epidemiche fra i cacciatori e i raccoglitori? Allora immaginiamo una malattia infettiva che entri in una tribù. Le tribù vivevano separate dalle altre tribù, avevano occasionali rapporti, ma erano separate dalle altre tribù. Allora una malattia infettiva che mettiamo pure che abbia una virulenza del 100%, per cui tutti gli individui che vengono colpiti e muoiono, e anche diciamo con un potere di trasmissione elevatissimo. Bene, se noi abbiamo una tribù di 150 individui, certo, ipotizziamo una malattia infettiva che entri nella tribù uccide 150 persone, però poi si spegne lì, non si espande in maniera epidemica e pandemica, proprio per la struttura dell'organizzazione che c'era. Tutto cambia con la cosiddetta rivoluzione o transizione neolitica, cioè con il passaggio dal Pleistocene al Loroocene. Gli esseri umani diventano agricoltori e domesticatori nella mezzaluna fertile in Cina e nel Centro America e quindi passano dalla ricerca in natura del cibo e delle fonti di sostentamento alla loro attiva produzione. Quindi l'uomo emerge a questo punto dalle nebbie dell'evoluzione e diventa pienamente uomo faber. La terra riesce a sostenere da 10 a 100 volte più persone di quanto non consente la terra vergine. Gli animali domestici aiutano l'uomo a produrre più cibo in quattro modi diversi. Forniscono il latte, la carne, il concime e la forza motrice. Quali sono le conseguenze in termini di popolazione di questa rivoluzione neolitica? L'espansione della popolazione da 10 a 100 volte. Quindi la fondazione delle città e come conseguenza l'esplosione delle malattie infettive. Naturalmente era possibile anche per un raccoglietore e cacciatore ferirsi e quindi infettarsi e morire dell'infezione dovuta al taglio, dovuta al trauma locale, all'infezione locale. Ma appunto come vi ho detto le malattie infettive non esistevano in quanto i gruppi erano molto piccoli e si arrestavano subito a Binizio. Invece con la fondazione delle città si ha appunto l'esplosione delle malattie infettive. Gli agricoltori convivono con i loro rifiuti che talvolta inquinano le fonti idriche della comunità. Gli insediamenti attirano i roditori, i ratti, i veicoli di malattie. Il disboscamento lascia delle pozze d'acqua e naturalmente si formano delle paludi. Ovviamente gli alberi assorbono l'acqua dal terreno attraverso le radici. Se non ci sono più gli alberi si è operato un disboscamento per costruire per esempio le abitazioni o per il riscaldamento naturalmente le pozze d'acqua aumentano, aumentano le paludi. Questo diventa l'ambiente ideale per lo sviluppo dell'anopheles cioè della zanzara che trasmette la malaria tuttora malattia estremamente presente in certe parti del mondo. La promiscuità dovuta alla fondazione delle città incrementa i contatti e quindi il contagio e anche i conflitti armati i conflitti armati come vedremo in alcuni casi sono stati fattori fondamentali nel catalizzare in un qualche modo proprio l'esplosione delle malattie infettive. Questo spiega quindi l'apparente paradosso cioè perché noi potremmo dire potremmo pensare se queste malattie si sono sviluppate con le società affollate e prima non esistevano da dove si sono originate? Beh la teoria classica era la teoria del miasma l'idea che dalle paludi dalla materia imputrefazione dalla materia stagnante potessero sollevarsi degli effluvi patogeni in grado di colpire contemporaneamente interi gruppi umani e quindi produrre le malattie ma noi invece sappiamo dal 1800 dalla seconda metà del 1800 che le malattie infettive sono dovute a piccoli agenti contagiosi cioè a batteri e poi a virus che sono stati scoperti nel corso del novecento protozoi e così via ma c'è un aspetto particolare che ci diciamo lega diciamo alla teoria microbiologica delle malattie infettive e lega la teoria microbiologica delle malattie infettive alla rivoluzione neolitica e sono gli studi di biologia molecolare attuali sui batteri e sui virus che ci permettono di rispondere bene a questa domanda cioè in particolare questi agenti infettivi da dove arrivano voi sapete che attraverso lo studio della sequenza nucleotidica del DNA è possibile attualmente costruire delle sonde che possono identificare bene nel resti di ossa nelle mummie e così via possono identificare delle sequenze di agenti infettivi e effettivamente con questi studi è stato possibile vedere che molti agenti infettivi si sono potuti identificare in parenti più prossimi presenti negli animali e che sono passati all'uomo durante appunto la rivoluzione neolitica quando l'uomo da cacciatore raccoglitore si è trasformato in agricoltore e domesticatore degli animali e questa forzata avvicinamento degli uomini con gli animali durante la rivoluzione neolitica ha determinato il passaggio di elementi infettivi dagli animali all'uomo e in effetti questo è stato visto in maniera chiarissima attraverso appunto gli studi di biologia molecolare che per esempio il virus del vaiolo è un parente di quello del vaiolo vaccini e non per niente infettarsi col vaiolo delle vacche cioè col vaiolo vaccinico crea una resistenza nel confronto del vaiolo umano e proprio attraverso questa osservazione come ho detto prima ha introdotto la vaccinazione per la prima volta nel 1796 il virus del morbillo è un parente di quello della peste bovina il virus dell'influenza deriva da analoghi virus di uccelli acquatici e maiali anzi si è determinato che di solito l'origine è negli uccelli acquatici e poi i maiali spesso possono fungere da amplificatori per così dire della carica virale e poi dai maiali facilmente passare all'uomo i batteri della pertosse derivano da analoghi batteri di maiali e di cani la malaria deriva da analoghi protozoi degli uccelli e il bacino di Koch tutti noi ricordiamo quando fino a circa vent'anni fa andavamo al supermercato a comprare latte e spesso le confezioni portavano scritto esente da TBC bovina perché effettivamente esiste una variante bovina del bacillo di Koch cioè del bacillo della tubercolosi chiaramente correlato diciamo così come derivazione filogenetica anche se adesso si è separati abbastanza ma appunto chiaramente correlato filogeneticamente ora in questo viaggio interspecie che diciamo in maniera significativa si è verificato a partire dalla rivoluzione neolitica ma poi ha continuato a sono eventi che hanno continuato a presentarsi lungo la storia umana ecco in questo viaggio interspecie gli agenti microbici modificano i loro connotati e si trasformano geneticamente per aumentare le loro proprietà di vincere nella lotteria dell'evoluzione quello che avrete sicuramente ne avrete scritto parlare viene definito spillover o potremmo tradurlo col termine tracimazione cioè un agente infettivo che è presente magari da millenni in una specie animale che improvvisamente si trova quella specie animale si trova forzatamente messa vicino ad un'altra specie animale beh quell'agente infettivo muta continuamente una mutazione di questo agente infettivo potrebbe trovare casualmente in miliardi di possibili mutazioni quindi è veramente un tiro ai dati in questo senso potrebbe trovare delle condizioni migliori di sviluppo nella specie vicina a quella in cui si è sempre trovato cioè trovare diciamo lasciare la vecchia casa e iniziare una nuova avventura alla ricerca di una patria alternativa e questo è ciò che si è verificato molto frequentemente e si è verificato frequentemente anche nell'ultimo secolo quindi lo spillover è un tiro ai dadi che ha indovinato la giusta combinazione quando il salto di specie diventa stabile e un microrganismo si trasmette regolarmente da animali all'uomo come oltre ai casi che abbiamo già visti per esempio l'antracea la brucellosi la rabbia le malattie sono definite zoonosi cioè malattie che colpiscono gli esseri umani ma che arrivano appunto dagli animali e vi sono queste categorie di agenti infettivi che possono provocare appunto delle zoonosi i virus i prioni che sono delle particelle proteiche particolari che però hanno delle caratteristiche molto simili ai virus su cui non mi soffermo i batteri i protozoi i batteri non hanno nucleo i protozoi hanno un nucleo sono cellule eucariotiche i funghi i protisti e i vermi ora si è calcolato che dal 58 al 60% di tutte le malattie infettive attualmente presenti fra gli uomini sono appunto delle zoonosi la loro origine ha a che fare con il contatto esagerato con gli animali ora questa non è una epidemia e neanche una pandemia ma vale la pena di dire proprio due parole sulla rabbia perché è un modello che permette anche di spiegare delle pandemie e delle epidemie molto più imponenti dal punto di vista della diffusione ora perché? perché la rabbia soprattutto negli ultimi anni in alcune parti del mondo è esplosa con dei piccoli focolai epidemici dovuti ai cambiamenti ambientali indotti dall'uomo qui introduciamo una prima nozione importante il fatto che alterare in maniera troppo rapida e troppo marcata di equilibri della natura crea delle condizioni di avvicinamento delle specie che storicamente sono sempre state separate e sono diciamo geneticamente programmate per vivere in certi ambienti e non in altri questi cambiamenti ambientali provocano degli avvicinamenti innaturali che possono essere però causa di malattie infettive un caso è proprio quello della rabbia la rabbia è una malattia dovuta al morso di un cane o comunque di un mammifero che ha appunto la malattia la malattia colpisce il sistema nervoso centrale il morso attraverso la saliva trasmette la rabbia localmente dove appunto avviene la lesione per esempio mettiamo su una gamba il virus penetra un virus RNA penetra all'interno delle terminazioni nervose e risale lungo le terminazioni nervose molto lentamente ci mette anche un mese e mezzo due mesi ad arrivare al sistema nervoso centrale quando arriva al sistema nervoso centrale e si manifestano i sintomi non c'è più niente da fare la persona oramai è totalmente inguaribile invece utilizzando un vaccino che è il vaccino introdotto da Pasteur che vedete in basso sulla destra durante il periodo intermedio fra il morso del cane rabbioso o comunque del mammifero rabbioso e il momento in cui si manifestano i sintomi cioè all'incirca diciamo così da due settimane a un mese e mezzo allora la vaccinazione diventa anche una cura cioè diventa la cosiddetta vaccinazione diciamo curativa non solo più diciamo preventiva come quella antivaiolosa ma curativa cioè una vaccinazione che cura anche una malattia che è già in corso perché il virus sta salendo lungo le terminazioni nervose ci sono diciamo non sono tanti i casi nel mondo beh diciamo secondo alcune statistiche una 50.000 casi soprattutto in India e in certe zone soprattutto dell'Asia c'è una grande diffusione la cosiddetta rabbia silvestre ma ci sono stati dei casi singolari per esempio questa ragazza norvegese che è andata in vacanza nelle Filippine e ha trovato un cane che era piuttosto mal preso mal ridotto nessuno gli dava da mangiare lei si è impietosita se l'è portata nella sua stanza l'ha lavato l'ha curato questo cane era un po' graffiata ma in maniera amichevole cioè era diciamo così apparentemente non aveva sintomi di tipo di malattia perché il cane affetto dalla rabbia è evidente viene detto cane rabbioso o idrofobico appunto ed è molto aggressivo invece questo non lo era naturalmente avrà leccato anche queste piccole lesioni superficiali la ragazza poi è tornata in Norvegia e ha iniziato a manifestare una malattia stranissima del sistema nervoso e i medici non capivano all'inizio che cosa avesse poi hanno visto che appunto aveva la rabbia e erano 200 anni che in Norvegia non si registravano morti per questa malattia che appunto colpisce ancora miliardi di persone diciamo soprattutto in Asia e in Africa ma la cosa interessante della rabbia ed è questo che ci lega proprio alla storia delle epidemie e delle pandemie è il fatto che è proprio un esempio in miniatura è un esempio quasi diciamo isolato in maniera particolare il fatto che determinati cambiamenti ambientali hanno provocato delle esplosioni di questa malattia per esempio questa è una notizia del 2004 sul Corriere della Sera nel estuario del rio delle Amazzoni c'è un'isola in cui venne operato un disboscamento sistematico ed eccessivo quindi gli pipistrelli che sono dei mammiferi e che vivevano in queste in questa isola normalmente si nutrivano succhiando sono pipistrelli vampiro ci sono due tipi di pipistrelli i pipistrelli frugiferi quelli che si nutrono dei frutti e i pipistrelli vampiro che invece succhiano il sangue dagli animali questi pipistrelli a causa del disboscamento non trovavano più un numero di animali su cui potersi nutrire e succhiare il sangue allora di notte penetravano nelle case nelle abitazioni degli abitanti locali e facevano delle piccole punturine sulla cute che poi al mattino la gente pensava di essere stata morsicata da qualche insetto in realtà erano i pipistrelli che succhiavano il sangue e nel giro di poco tempo 15 persone si presentano all'ospedale locale con stranissimi sintomi neurologici perché la rabbia ovviamente non ha dei sintomi proprio paradigmatici e se uno non ci pensa che possa essere quella non è che riesca a fare la diagnosi e 15 persone muoiono proprio di questa malattia lo stesso è capitato in Perù sempre a seguito del disboscamento ora molte malattie che hanno preso origine da uno spillover cioè che sono arrivate dagli animali e che appunto originariamente erano delle zoonosi hanno poi cessato di esserlo al giorno d'oggi perché? perché l'agente infettivo batteri, virus o chi per esso si è trasformato geneticamente e quindi ha reciso i suoi legami col passato per cui non esiste più un serbatoio naturale negli animali di questo agente infettivo tali sono alcuni agenti come il virus del vaiolo il virus del morbillo della poliomielite il vibrione del colera anche il battere della sifilide questi sono esclusivamente appunto umani esiste anche un processo contrario cioè una sorta di spillover inverso detto antroponosi quando una malattia umana passa agli animali esattamente con un procedimento analogo a quello per cui dagli animali gli agenti infettivi possono passare agli esseri umani ed è una situazione che ovviamente capita soprattutto con specie a noi affini perché è più facile che l'agente infettivo trovi nell'animale un ambiente in cui svilupparsi in maniera analoga ora la prima descrizione in realtà di una antroponosi è di Tucidite che a proposito della grande epidemia atenese del 430 avanti Cristo scoppiata appunto durante la guerra del Peloponneso aveva proprio notato la morte di uccelli e quadrupedi che si erano nutriti dei cadavere di persone che erano morte a causa della grande peste di Atene e al giorno d'oggi ci sono case di antropozonosi o antroponosi che riguardano i gorilla di montagna e che rischiano di infatti per esempio proprio in questo periodo sono tenuti lontani dai turisti perché rischiano di contagiarsi col morbillo e pare anche soprattutto in questo periodo da con sembra che possano contagiarsi col coronavirus ci sono state tante malattie diciamo infettive terribili nella storia umana accenno ad alcune prima di arrivare un po' all'epoca contemporanea naturalmente beh la peste di Attesa abbiamo già fatto un accenno la peste Antonina dal 165 al 180 dopo Cristo cosiddetta anche peste di Galeno perché appunto viene anche descritta nei testi galenici e 5 milioni di morti pare ma la peste di Giustiniano fu una vera e terribile diciamo enorme epidemia che investì tutta il bacino del Mediterraneo gran parte dell'Asia minore e Costantinopoli che aveva 800 mila abitanti si ridusse alla metà gli abitanti di Costantinopoli si ridussero alla metà si calcola che generò almeno 30 milioni di morti ed era una peste dovuta proprio al battere iersini a pestis responsabile anche delle peste successive in particolare la grande peste del 1347 1352 quello che è descritta nella introduzione del Decamerone e che in Europa portò alla morte alla scomparsa di un terzo della popolazione europea si calcola che a livello mondiale perché la malattia arrivava dalla Cina pare e si calcola che a livello mondiale il numero di morti addirittura possa essere anche triplicato a seguito di questa epidemia di peste vennero introdotte le prime misure di diciamo così distanziamento e di i primi tentativi di controllare la diffusione della malattia con Dubrovnik 1377 Ragusa punto Dubrovnik in cui si introdusse per la prima volta la prescrizione per le navi di rimanere in determinate diciamo bloccate in determinate zone lontane dal porto per 30 giorni poi si portò a 40 giorni da cui il termine quarantena che venne poi introdotto subito dopo Venezia Venezia naturalmente come Repubblica Marinara e con i grandi scambi che avevano soprattutto con l'Oriente fu immediatamente sensibilizzata a introdurre misure di tipo preventivo e quindi soprattutto vennero organizzate nella isola di Santa Maria di Nazareth da cui il termine Nazarethum che venne introdotto per indicare questa modalità di isolamento appunto nell'isola di Santa Maria di Nazareth da cui poi si passò al termine Lazzaretum o Lazzaretto che diciamo ispirandosi anche al personaggio evangelico Lazzaro affetto appunto da Lebra e poi nuove misure successive appunto a Pisa 1464 Genova 1467 e così via e poi molte altre malattie infettive la sifilide esplosa alla fine del Medioevo il vaiolo ne abbiamo già parlato il colera soprattutto o morbo asiatico soprattutto nel corso dell'Ottocento e poi il Novecento ha visto proprio una grande esplosione di pandemie dovute anche al grande movimento delle popolazioni alle guerre mondiali che hanno creato delle occasioni straordinarie di contatti fra popolazioni e soprattutto anche hanno favorito lo sviluppo delle malattie a causa del defendamento generale dovuto alla mancanza di nutrizioni alle condizioni avverse in cui vivevano i soldati la spagnola che esplode nel 1918 e nel 1919 e che secondo certe stime causò da 40 a 50 milioni di vittime ma vi sono ho letto anche stime molto più alte addirittura si arriva anche al doppio quindi più morti dovuti alla spagnola dei morti dovuti alla prima guerra mondiale ora perché è il termine spagnola beh non ebbe inizio in Spagna e questo lo sappiamo di sicuro ma la Spagna fu il paese che non essendo coinvolta nella prima guerra mondiale non aveva quel sistema di censure della stampa che c'era invece in tutti i paesi del mondo che cercavano proprio di calmirare di controllare le notizie anche di tipo sanitario e quindi i giornali spagnoli iniziarono a raccontare molto di questa malattia che era esplosa all'inizio del 1918 poi a una seconda fase nell'ottobre di quell'anno e poi una terza ondata nella primavera dell'anno successivo ci sono diverse teorie su come si sia generata questa malattia sicuramente dovuta ad uno spillover dovuta a probabilmente a uccelli acquatici che possono avere trasmesso il virus ai maiali e il maiale può avere amplificato enormemente la carica virale che poi si è trasmessa all'uomo ci sono diverse teorie sull'origine qualcuno parla della Cina qualcuno altro della Francia però la più accreditata la farebbe originare da un contadino del Kansas che viene a contatto con una diciamo con le forze armate americane che partono proprio da quella zona e che vengono poi portate in Europa e quindi in un qualche modo trasmettono poi la malattia in diversi punti europei e poi naturalmente si trasmette rapidamente era paradossalmente più letale nei giovani che negli anziani questo forse perché era legata in un certo qual modo la patogenesi cioè il meccanismo di produzione delle lesioni era forse legato ad una iperreattività del sistema immunitario il sistema immunitario quando diventa esagerato può anche creare dei problemi non indifferenti e sembra che appunto gran parte delle emorragie polmonari perché morivano di polmoniti ma vi erano degli aspetti emorragici nei polmoni e poi vi erano delle sovrainfezioni di batteri vari pare che appunto quella di cui avrete sentito parlare su cui però non mi soffermo la cosiddetta tempesta citochinica fosse esagerata in questi pazienti e quindi l'effetto collaterale che aveva questo eccesso di reazione provocava la formazione delle emorragie e quindi le polmoniti e quindi la morte probabilmente forse alla pari rispetto alla popolazione con la grande peste del 300 questa è stata il più grande disastro demografico di sempre la malattia si trasmetteva perché via beh lo sappiamo attraverso il cavo orale attraverso la respirazione attraverso lo starnuto quando noi parliamo emettiamo delle goccioline dette goccioline di plug che possono ospitare appunto gli agenti infettivi questa era la via di trasmissione e poi si e quindi una diffusione molto 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 rapida come ho detto lo spillover probabilmente originava appunto dagli uccelli acquatici forse attraverso i maiali e poi all'uomo e però diciamo ci sono molti misteri legati a questa malattia perché diciamo ha avuto una virulenza eccezionale che probabilmente si spiega anche con il contemporaneo la contemporanea situazione di defedamento generale di penuria alimentare di esposizione a vari agenti infettivi nelle trincee i grandi contatti interumani quindi certamente la malattia ebbe anche questa fisionomia a causa proprio della situazione bellica ora la storia di come è stato isolato il virus perché questa è una di quelle malattie per cui pur essendo malattie del passato una di quelle malattie per cui è stato possibile trovare il virus grazie agli stessi metodi di cui ho già parlato di biologia molecolare che permettono di riscrivere molti capitoli della storia dal punto di vista proprio della sanità i due personaggi coinvolti erano questo jeffrey taubenberger che era un patologo che è un patologo e han ride che era una biologa ora questi avevano saputo che nell'istituto di patologia delle forze armate a washington e in un in un frigo erano contenuti delle frammenti di polmone di una vittima della spagnola andarono a recuperare questi pezzi pensando effettivamente con i mezzi che abbiamo adesso di biologia molecolare forse riusciamo a isolare a vedere le particelle virali purtroppo però questo frammento di tessuto di polmone era stato rovinato dalla formaldeide un conservante con cui si venivano trattati i campioni biologici però nonostante questo problema riuscirono a trovare dei frammenti di RNA all'interno diciamo dei campioni biologici e a pubblicare poche sequenze parziali di questo virus e pubblicarono un articolo sulla più prestigiosa rivista americana di scienze che è Science in cui appunto descrissero la caratterizzazione genetica iniziale perché appunto come vi ho detto erano frammenti di RNA non era la sequenza completa del virus quindi frammenti caratterizzazione iniziale della virus dell'influenza spagnola del 1918 comunque avevano identificato questi frammenti chiaramente come particelle virali di tipo influenzale cioè è una delle varie varianti del virus influenzale detto H1N1 perché ci sono due antigeni ma non la faccio troppo lunga su questo ci sono due antigeni la neuroaminidasi e l'emoglutinina e ci sono diverse caratterizzazioni molecolari di questi due antigeni e appunto quello che si riferisce al virus della spagnola era H1N1 erano riusciti quindi a capire molte cose ma mancava però diciamo così lo studio definitivo lo studio definitivo venne propiziato dal fatto che questo Johan Halting che era un medico svedese che lavorava però negli Stati Uniti lesse l'articolo su Science di questi Taubenberger e Raid di questi due scienziati e si ricordò che in Alaska sotto il permafrost c'era un cimitero alla Braving Mission in una missione in Alaska c'era un cimitero in cui si sapeva che nel 1918 inizio 1919 72 abitanti su 80 di quella missione erano morti di Spagnola allora Halting telefona a Taubenberger dice guardi che io tra l'altro Halting era un medico ed era anche lui un patologo ma aveva uno spirito un po' d'avventura un po' alla Indiana Jones possiamo dire quindi si telefona a Taubenberger e dice io vado in Alaska se lei è d'accordo e cerco di recuperare dei frammenti di polmone di tessuto polmonare che dovrebbero essere presenti dato appunto le condizioni favorevoli di conservazione a bassa temperatura dovrebbero essere presenti in questi cimiteri quindi organizza una spedizione va in Alaska scava questi cimiteri e trova il cadavere di una i resti diciamo così di una vittima che era molto obesa e a causa di questo fatto i tessuti interni si erano conservati molto bene quindi recupera questi tessuti li manda a Taubenberger e finalmente pubblicano la sequenza completa del virus della spagnola e infatti Haltin è coautore diciamo della seconda pubblicazione proprio in cui vi è un'identificazione della sequenza completa appunto del virus ora la cosa che non è molto conosciuta ma che è una storia abbastanza affascinante è un'altra malattia che si esplode alla fine della prima guerra mondiale e che è stata un po' messa in ombra dalla spagnola perché la spagnola provoca appunto un numero enorme di vittime e si parla quasi esclusivamente di quella di quella malattia come diciamo conseguenza o come legata diciamo alla prima guerra mondiale ma in realtà c'è un'altra malattia che ha avuto molto meno diciamo molto meno persone affette alcune statistiche dicono un milione altri arrivano addirittura a 5 milioni di persone colpite da questa malattia l'encefalite letargica ma questa malattia ha avuto delle conseguenze enormi perché la gran parte dei pazienti che sopravvivevano alla malattia più o meno il 50% il 50% moriva andando in coma encefalite letargica perché la malattia si manifestava dopo una fase iniziale di tipo infiammatorio un po' come una febbre però poi provocava una letargia cioè una sorta di coma superficiale da cui poi i pazienti scivolavano in un coma profondo e potevano morire ma un buon 50% invece si risvegliava e si risvegliava spesso con dei sintomi di tipo neurologico cioè un parkinsonismo post-encefalittico molti apparentemente guarivano dopo appunto questa encefalite acuta ma a distanza magari di 3, 4 10 anni sviluppavano appunto un parkinsonismo un parkinsonismo post-encefalittico qualcuno di voi avrà letto il libro Risvegli di Oliver Sacks lui negli anni 70 perché poi questi pazienti post-encefalittici parkinsoniani sono rimasti nei reparti neurologici nei cronicari soprattutto fino appunto all'inizio degli anni 70 e Oliver Sacks poi diede loro la levodopa e li risvegliò e hanno fatto anche un film molto diciamo di grande successo con Robert De Niro proprio su questa storia incredibile la malattia era stata descritta da questo medico Constantin von Economo un medico austriaco ecco questi sono i reparti che poi negli anni 30 40 50 fino agli anni 70 io penso ricordo vagamente di aver visto alla fine degli anni 80 alla fine degli anni 70 quando appunto poco prima della laurea di aver visto ancora dei pazienti rimasti affetti da postumi dell'encefalite letargica ricoverati all'istituto Mondino di Pavia e qui c'è una storia incredibile che non vi racconto ma che diciamo ha fatto sì che per così dire venisse organizzato in tutta Italia e direi anche poi a livello mondiale venissero organizzati dei reparti per la cura di questa malattia con la cosiddetta terapia bulgara non so se ne avete mai sentito parlare una terapia che viene inventata da un guaritore bulgaro nella profondità delle campagne della Bulgaria con la bella donna una pianta vegetale molto pericoloso ma diciamo utilizzandola in maniera particolare è stato possibile appunto in parte curare questi ammalati ora e vedete sulla destra Robert De Niro e Robin Williams penso sì che erano i due protagonisti del film io l'ho anche descritta in un mio libro l'erba della regina in cui appunto racconto questa storia dopo essere stato in Bulgaria appunto a studiare proprio a trovare i documenti originali legati a questo guaritore bulgaro che si chiamava Ivan Rai e che ebbe molto successo fra le due fra le due guerre ora la cosa interessante di questa malattia comunque è che in effetti sintomi parkinsoniani e comunque un interessamento del sistema nervoso è stato trovato anche nel covid-19 ci sono diciamo ci sono alcuni articoli uno è questo qui l'altro è questo in cui diciamo alcuni ricercatori hanno proprio messo in relazione l'encefalite letargica scoppiata dopo la prima guerra mondiale con i postumi neurologici del covid noi sappiamo in effetti che uno dei sintomi iniziali della malattia sintomatica è una perdita dell'olfatto e questo è dovuto non a una irritazione della mucosa olfattiva ma è dovuta proprio ad un interessamento delle terminazioni nervose quindi è un virus che ha un neurotropismo è diciamo per così dire attirato dal sistema nervoso centrale ci sono stati anche casi di varie complicanze neurologiche descritte e quindi c'è qualcuno che ha un po' ripreso in considerazione come modello di studio anche del covid la storia della encefalite letargica ora uno spillover aveva già provocato lo sviluppo dell'AIDS di cui ho parlato all'inizio infatti le origini dell'AIDS non risalgono al 1981 quando la malattia venne notata ma proprio facendo degli studi di biologia molecolare e soprattutto studiando dei sieri che erano stati conservati in certi ospedali africani negli anni 50 60 si è potuto diciamo in un qualche modo riuscire a risalire indietro nel passato i biologi molecolari applicano una metodologia che permette di prevedere una sorta di orologio molecolare per cui è possibile dire in che momento un agente infettivo è mutato e ha fatto il salto di specie e secondo questi studi il salto di specie del virus dell'AIDS che è una pandemia tuttora in corso meno massiva ma più subdola ma molto grave tuttora appunto dominante a livello mondiale ebbene questa pandemia avrebbe preso origine da un evento di macellazione degli scimpanzè attorno al 1908 gli scimpanzè normalmente non vengono uccisi per scopo alimentare in Africa ma vi era una tribù in particolare che invece lo faceva e quindi il virus peraltro negli scimpanzè sono stati trovati virus simili e quindi si è praticamente dimostrato con la biologia molecolare che questi virus sono passati appunto dagli scimpanzè agli uomini a lungo è rimasta però abbastanza limitata in Africa se non che durante gli anni 50 e 60 si fecero delle campagne di somministrazione di un farmaco arsenicale contro il tripanosoma brucei che è il famoso agente che provoca la malattia del sonno trasmesso dalla mosca ebbene queste campagne di somministrazione di questo farmaco arsenicale venivano fatte con siringhe che bisognava però bollire ogni volta non esistevano le siringhe monouso come quelle attuali ma diciamo i medici gli infermieri e comunque chi era preposto ad andare in giro a somministrare questo preparato arsenicale avrebbe dovuto sempre lavare diciamo bollire la siringa invece purtroppo tante volte questo non venne fatto per cui l'AIDS iniziò a diffondersi ampiamente in Africa e come mai poi si diffuse ad Haiti e poi lentamente in Europa negli anni 60 perché Haiti beh quando il Congo si liberò dalla dura occupazione coloniale belga nel 60 con il movimento di liberazione guidato da Patris Lumumba il paese era in condizioni terribili non c'era un medico non c'era un funzionario statale e allora l'OMS intervenne mandando dei medici che parlassero francese naturalmente non potevano venire dal Belgio o dalla Francia perché appunto si erano appena liberati dal loro dal dominio coloniale di origine belga ma anche i francesi erano visti allo stesso modo e allora mandarono dalla Haiti la Haiti non era il disastro sanitario che conosciamo attualmente ma c'erano dei medici funzionari di vario livello mandarono appunto questi soggetti tecnicamente preparati e quindi poi la malattia passò dalla zona del Congo ad Haiti e infatti all'inizio dell'81 la malattia proprio era connotata proprio per colpire appunto le popolazioni haitiane ora lo spillover e mi sto avviando alla conclusione si è ripresentato in maniera sempre più minacciosa negli ultimi anni a partire da quelle zone dove sono disattese le raccomandazioni scientifiche come abbiamo visto prima di non tenere gli animali selvatici a vivere negli ambienti domestici umani qui è chiaro che quello che sto dicendo non si riferisce ai gatti ai cani cioè agli animali con cui c'è un contatto da molto tempo che sono oramai parte della famiglia sono animali domestici e quindi questo problema del rischio di spillover non c'è con questi animali ma animali che normalmente hanno i loro ambienti ecologici in cui vivono in un loro equilibrio non dovrebbero essere messi a vivere o comunque a sopravvivere in maniera violenta con altre specie e questo è particolarmente grave dove gli usi alimentari portano alla promiscuità della carne in particolare ci sono questi wet markets cinesi questi mercati umidi cinesi in cui vi sono moltissime specie da allevamento tenute vicino a quelle silvestri sono delle bolge dantesche terribili in cui appunto accanto al pesce alla carne fresca si trova la serie più improbabile di animali anche vivi un giornalista prima che scoppiasse il problema del covid 19 in una inchiesta a Wuhan 11 milioni di abitanti scrisse che si potevano acquistare fino a 100 specie di animali selvatici diversi perché i cinesi hanno questa specie di moda per cui provano la carne degli animali più strani più esotici per cui si trovavano in questi web market pipistrelli topi rettili uccelli pollame vario salamandre pangolini tromedari i tromedari venivano naturalmente importati volpi insetti canguri e c'è questa moda culinaria particolarmente ye whey che attrae ricchi cinesi per i quali è quasi uno status symbol per così dire nutrirsi di carni strane vedete per esempio la zuppa di pipistrello che è considerato una prelibatezza quindi pipistrelli zibetti pangolini serpenti e naturalmente lo spillover diventa una realtà continuamente minacciosa ed è alla base delle tre malattie principali da coronavirus che conosciamo la SARS la MERS e il COVID-19 la SARS è una sindrome respiratoria acuta che è una sindrome grave respiratoria acuta che venne tra gli altri descritta da un medico italiano Carlo Urbani che viene chiamato da noi a visitare un cittadino sinoamericano e lui si rende conto che questo paziente ha una malattia nuova una malattia polmonare che non rientra nei canoni delle diciamo delle usuali polmoniti e quindi immediatamente organizza anche il suo auto isolamento in un qualche modo e affrisa subito le autorità vietnamite che infatti riescono a bloccare la malattia purtroppo lui si ammala e muore proprio di questa malattia nel 2003 un caso diciamo simile è quello di Wen Lian che è un medico cinese che lancia l'allarme il 30 dicembre del 19 2019 ma viene ammonito dalle autorità perché viene accusato di aver turbato l'ordine sociale e in realtà lui appunto lancia l'allarme e dice guardate che questa malattia è una malattia nuova una malattia estremamente diffusibile estremamente pericolosa e poi riconoscono le autorità di aver sbagliato e gli danno anche i giusti riconoscimenti anche se però lui muore il 7 febbraio del 2020 ora quindi senza parlare troppo di coronavirus perché ne avrete sentito parlare continuamente si tratta di virus a RNA estremamente mutabili la differenza tra i virus a DNA e quelli a RNA è l'elevato tasso di mutabilità della sequenza nucleotidica dei virus a RNA questa elevata mutabilità rende più fragile il virus che muore quasi sempre in maniera molto rapida ma per lo stesso motivo casualmente a causa appunto del fatto che è come tirare i dadi continuamente nella grande massa di nuove varianti che si generano è facile che se ne generi qualcuna con delle resistenze particolari come vediamo anche rispetto alle varianti di coronavirus di cui sentiamo parlare tutti i giorni e che quindi appunto in questo modo si diffonda più facilmente molti di questi virus albergano nei pipistrelli i pipistrelli hanno un sistema immunitario particolare chi l'ha studiato diciamo ha proprio messo in evidenza come loro probabilmente coesistono coabitano con i coronavirus da migliaia e migliaia di anni e finché vengono lasciati all'interno delle loro grotte che vivono all'interno del loro habitat naturale e non vengono portati nei wet market a vivere vicini in questi luoghi di dannazione in cui è facile pensare ad una gabbia in cui c'è il pipistrello le cui deiezioni cadono in basso dove si trova il maiale e quindi facilmente l'agente infettivo possa trovare un'opportunità di svilupparsi nel maiale o nel pangolino e così via e quindi pipistrelli animali intermedi che amplificano spesso negli animali intermedi spesso c'è un'amplificazione della carica virale e poi agli esseri umani o praticamente finito quando in maniera violenta e forzata gli animali si trovano a contatto con specie del tutto aliene si favorisce il salto di specie si tratta di ombre minacciose calate nel futuro stesso del genere umano che dipendono anche dai rapporti violenti che si sono sviluppati fra uomo animali e ambiente cioè il turbare brutalmente gli equilibri ecologici può avere la conseguenza di sprigionare forze imprevedibili e dalle nefaste conseguenze che impongono con urgenza una ridefinizione meno predatoria delle relazioni finora quasi solo opportunistiche che l'uomo ha imposto alla natura io ho finito grazie ringraziamo il professor Mazzarello per l'ampia e credo stimolante lezione adesso naturalmente come sempre c'è la possibilità di pormi delle domande chiedere appunto approfondimenti fare le proprie considerazioni per cui l'invito è ai partecipanti a non essere timidi l'invito Sempre l'attimo di rielaborazione. Sì, sì. Quello che abbiamo sentito, perché sono rimasto molto colpito dalle stime relative alla peste di Giustiniano, che alla fine non erano molto dissimili da quelle della Spagnola, che peraltro, nonostante siano in quell'età che noi storici chiamiamo contemporanea, però sappiamo che è molto difficile la quantificazione. Infatti è difficile, sono quantificazioni molto probabilistiche, però ci sono tante fonti storiche, ma anche ricerche che sono state fatte nei cimiteri, in cui è stato possibile proprio, per esempio, dimostrare che era la Iersinia pestis, cioè che la gente era la prima epidemia di peste simile a quella che poi avrebbe flagellato il mondo nel 1347-48. Scusa, quale che mi è saltata la connessione? Di Giustiniano. Grazie. Sì, si sa che arriva dall'Egitto, perché ci sono tutte delle fonti lì, e poi si espande in tutto il bacino del Mediterraneo. Comunque solo Costantinopoli ha avuto, pare, 400.000 morti, su 800.000, era una città di 800.000 abitanti all'epoca. No, la cosa che secondo me che colpisce è il fatto che appunto è l'origine animale di molte di queste malattie. Per cui oramai gli animali che sono stati domesticati il pericolo non trapportano più. Però sicuramente in origine è quando sono stati domesticati i cani o le mucche. Le mucche, certamente il vaiolo arriva dalle mucche, perché ci sono queste omologie di sequenza dimostrate. Poi c'è una forma di vaiolo anche dei cavalli, per esempio. Giavardo si chiamava, che pure ha delle omologie di sequenza. Quindi la filiera è quella lì, la filiera di origine. Cioè di fatto è meglio che ci siano delle zone ecologicamente, non dico isolate, ma lasciarle stare, lasciarle in un qualche modo vivere nei loro equilibri, andare in maniera drastica e predatoria, perché spesso poi l'atteggiamento non è ispirato al rispetto per la natura, ma è proprio di tipo opportunistico, predatorio, unicamente utilitaristico. così, cioè indubbiamente questo ha l'effetto di provocare, come colpo di coda terribile, però l'esplosione di molte malattie. Enrico, ci deve essere una domanda in chat. Sì, sì. Allora, Animal Equality si occupa da tempo delle sofferenze degli animali e ha denunciato il web market. Alla luce di quanto si sa, ora sono state prese delle misure da Antonella Carriero. Sì, allora si sa che dopo l'esplosione del Covid-19 li hanno chiusi, in maniera, diciamo, decisa. però io sono sicuro, cioè, da quello che ho letto e da quello che ho visto anche, hanno ripreso di nuovo. In maniera un po' più, un po' più nascosta, non più così, forse con meno animali. Cioè, magari non tengono più i dromedari che è vicino agli altri, ecco perché è difficile nasconderli, però lo stanno rifacendo. E quindi il rischio c'è di nuovo. Infatti, so che c'era stata anche una presa di posizione dell'OMS che aveva segnalato questo, quindi chiedendo alle autorità cinesi di intervenire. Però il problema è che magari ufficialmente l'intervento c'è, però poi la gente, dal momento che c'è una domanda, il mercato sopravvive. Cioè, il problema fondamentale è quello. Finché c'è la domanda, e pare che in Cina sia... Beh, io ho stato in Cina due volte, e devo dire che non ricordo di essere stato in posti simili, però mi ricordo di essere stato in un ristorante dove ci hanno portato un pentolone con dentro moltissimi tipi di carne diversa e io non l'ho mangiato, mi ricordo però, perché avevo una certa diffidenza, perché sapevo che appunto utilizzavano qualsiasi tipo di animale, dai serpenti al qualsiasi tipo di animale. E c'è proprio la moda, quasi una sorta di... Come dire, si è chic se uno mangia il brodo di pipistrelli. Abbiamo un'altra domanda in chat di Mirella Naudi, la leggo. Difesa dell'ambiente, sviluppo sostenibile, sono condizione sine qua no per la salvezza dell'uomo. Come mai la politica europea non riesce ad intervenire in maniera incisiva nella riduzione degli allevamenti nel consumo di carne? Di nuovo, io penso che la risposta sia tutta nella domanda. perché io penso che se cambiano un po' le abitudini individuali, io non sono vegetariano, però mangio poca carne, oramai da un po' di tempo ne mangio poca. Se diminuisce la domanda, sicuramente si riesce a ridurre anche questi allevamenti, in cui obiettivamente se uno li guarda, veramente rimane quasi traumatizzato, perché sono tenuti in condizioni tali, e in fondo, diciamo, adesso senza voler esagerare, però insomma c'era un famoso bioeticista che si chiamava Peter Singer, che si chiama Peter Singer, che ha scritto, che però si riferiva in realtà poi ad altri, a filosofi già in corso dell'Ottocento, la domanda fondamentale è non se un essere vivente è intelligente e ha il pensiero, ma se è un essere vivente soffre. Ora, è vero che il paradigma cartesiano che separava la mente dal corpo e diceva che la mente ce l'hanno solo gli esseri umani, l'anima interagisce nella ghiandola pineale dell'uomo ed è l'unico essere vivente dotato di anima, mentre invece gli animali sono delle macchine e quindi i riflessi che noi vediamo quando vengono torturati sono solo, diciamo, dei riflessi, ma non sentono realmente il dolore, perché non hanno l'intelligenza per capirlo. Questo la scienza contemporanea ha dimostrato che è sbagliato, che non è vero, che è falso. Cioè facendo delle analisi elettrofisiologiche o neuroradiologiche con le risonanze magnetiche e così via, si vede che i modelli di attivazione cerebrale sono equiparabili e quindi gli animali soffrono. E quindi suppongo che queste considerazioni che molti oramai fanno però non sono ancora giunti al punto tale da incidere in maniera significativa a livello legislativo. Poi noi dobbiamo pensare che l'Europa è niente rispetto al mondo, cioè siamo 300 milioni di abitanti, ma pensate all'esplosione. Il problema fondamentale è anche l'esplosione della popolazione. Cioè se uno guarda le cifre non può essere molto ottimista, sinceramente, perché come si fa a pensare a popolazioni che aumentano di decine, di milioni di abitanti ogni anno e che chiaramente dovranno cibarsi e non potranno cibarsi di vegetali, a meno che non si inventino, diciamo così, come pare, in parte si stia già facendo, una carne sintetica che pare sia buonissima, peraltro, perché è fatta con le stesse proteine, però è fatta con un procedimento, diciamo così, di sintesi, e allora forse l'industria alimentare potrebbe anche riuscire a soddisfare delle esigenze che diventano incalcolabili. Noi in Europa, certo, sarebbe sicuramente un atteggiamento corretto, anche moralmente corretto, indipendentemente dai presupposti, diciamo, etici che uno ha, però c'è una morale, diciamo, comune, penso che sia moralmente lecito far presente questi aspetti alle autorità europee, quindi ridurre il consumo di carne, però è un qualcosa che deve partire da ognuno, io penso, e quindi se si diminuisce la domanda, lentamente si modifica anche questa situazione. In termini di leggi, secondo me, è quasi impossibile, cioè bisogna aumentare le leggi per cui le mucche non vengano tenute in uno spazio di un metro, messi lì con le macchine che le mungono automaticamente, gli si dà da mangiare come se fossero delle macchine. Ecco, è chiaro che invece gli allevamenti animali in cui perlomeno il periodo in cui devono vivere lo vivono in maniera, diciamo, rispondente all'armonia della natura, mangiando, broccando e così via, è ben diverso rispetto a mantenere in condizioni così terribili molti animali, o i maiali. I maiali che hanno tra l'altro un'intelligenza elevatissima, non sono per niente stupidi come animali, eppure se uno guarda gli allevamenti degli animali si rende conto che non riesce a... Adesso, fare dell'empatia con gli animali è sbagliato perché nessuno può dire cosa veramente pensi un maiale o un altro animale. È già difficile fra esseri umani. però indubbiamente sappiamo che se hanno delle reazioni dolorose è perché soffrono. Quando un maiale viene portato al macello e prima di lui c'è stato un altro che è stato macellato, quello che arriva vicino al macello, sente l'odore del sangue di quello che l'ha preceduto, inizia a gridare ben prima che venga sgozzato. Ora, quella è sofferenza. Cioè, la sofferenza è sofferenza, alla fine, voglio dire. Per cui, diciamo, sono problemi pazzeschi, problemi che portano a delle contraddizioni, a dei conflitti, che non so come si potranno superare e che comunque i paesi occidentali destinati ad essere una minoranza rispetto al quadro mondiale in cui questi problemi proprio non esistono. Se uno frequenta certi paesi, io l'ho fatto tante volte, sono stato molte volte in Oriente, ma non esiste. Ci sono anche proprio dei presupposti religiosi che rendono gli animali come nient'altro che qualcosa da utilizzare è fatti per l'uomo e di cui l'uomo può disporre come vuole. Cioè, quando si è in condizioni molto drammatiche, anche dal punto di vista nutrizionale, eccetera, è chiaro che le considerazioni che facciamo noi, che viviamo in altre condizioni, ben diverse, non potranno mai essere fatte. Allora, un'altra domanda di Josiane Carrara. Nel 2015 Bill Gates, in una tech conference ormai notissima, aveva parlato del virus che ucciderà 10 milioni di persone. Al di là dell'annuncio ad effetto, c'è chi parla di una profezia, abbiamo informazioni su possibili nuove forme di coronavirus relative al nostro futuro prossimo? Sì, in realtà Bill Gates aveva letto Spillover, il libro pubblicato da Adelphi in Italia, in cui l'autore del libro aveva già nel 2000, mi pare sia uscito attorno al 2010-2011, aveva proprio detto chiaramente che il problema non è dire se ci sarà una nuova pandemia, ma quando. e dice, lui tra l'altro è un giornalista scientifico, quindi non è una sua conclusione originale, ma lui aveva letto e aveva intervistato i maggiori infettivologi del mondo, quelli proprio impegnati nella lotta contro la SARS, in particolare contro Ebola, contro il virus dell'AIDS, quindi aveva interpellato anche molti infettivologi che studiavano le malattie influenzali e quindi lui aveva raccolto queste opinioni e le aveva poi sintetizzate in questo libro. Bill Gates l'aveva letto e quindi aveva rilanciato la cosa. Ora, non so esattamente di coronavirus, ci sono diversi altri coronavirus isolati dai pipistrelli e che quindi potrebbero potenzialmente anche passare agli esseri umani. Però una preoccupazione veramente grossa è quella sul virus dell'influenza, perché ci sono dei virus influenzali, delle varianti, perché il virus dell'influenza è quello lì, però ci sono poi A, B, C e poi ci sono tutta una serie di varianti e il virus dell'influenza potrebbe essere estremamente letale. Lo è stato con la spagnola, ma potrebbe esserlo anche con nuovi ceppi. Diciamo che però rispetto al passato e questo lo dico per dire che la scienza è cultura ed è anche un ambito dell'attività umana che sotto molti profili, diciamo, a cui noi sotto molti profili dobbiamo assegnare la possibilità di trovare delle soluzioni. Perché comunque, se dovesse comparire un virus influenzale anche molto grave, certamente le autorità sanitarie sarebbero in grado di realizzare un vaccino molto rapidamente. Perché oramai tutta la tecnologia è stata sviluppata, ci sono dei vaccini, questi vaccini per esempio a RNA, quelli Pfizer e Moderna, sono vaccini che concettualmente sono delle novità incredibili. funzionano come vaccini, perché diciamo, praticamente è una reazione immunitaria nei confronti di una proteina del virus. Ma il modo attraverso cui si inducono le cellule a produrre questa proteina è geniale ed è anche molto semplice. Ed è una tecnologia facilissima. Com'è? No, è un'interferenza. Cioè, relativamente facile, diciamo. Però se pensiamo che il virus è stato isolato fra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 e già dopo un anno ci sono vaccini almeno quattro tipi o cinque tipi concettualmente diversi di vaccino, questo ci dice che se c'è la sorveglianza sanitaria, c'è l'organizzazione per la distribuzione dei vaccini, ci sono dei laboratori adeguati nel controllo di nuovi focolai epidemici, di nuove malattie e questo viene immediatamente poi isolato, insomma, per lo meno per i virus influenzali si può pensare a dei vaccini. Poi però ci sono virus come quello dell'AIDS nei quali il vaccino non si è ancora riuscito a trovare proprio per le capacità mutagine straordinarie è una specie di proteo che si modifica continuamente e non si riesce anche se le notizie recenti sembrerebbero far pensare che anche per quel tipo di virus lì la soluzione non debba essere molto lontana. Però, diciamo, per i coronavirus e per i virus influenzali i vaccini penso che dovessero anche apparire nuove varianti molto patogene e così penso che non ci voglia moltissimo a mettere a punto dei vaccini adeguati per controllare quelle malattie. Poi ci sono tutto un ambito di malattie sconosciute o poco conosciute in cui non si può dire in maniera preventiva. Però, certo, se c'è una sorveglianza adeguata secondo me diciamo se questa epidemia ha provocato un risultato diciamo al di là degli enormi problemi risultati drammatici catastrofici conseguenze catastrofiche che ci sono state però forse la conseguenza positiva è che ha fatto capire come ci debba essere una sorveglianza sanitaria come ci sono delle strutture statali che preposte e che devono intervenire devono essere anche all'occhio capire quando è il momento di considerare qualcosa di nuovo isolarlo questo penso che sia stato acquisito e sicuramente le strutture sanitarie di tutti i paesi del mondo cambieranno io penso che cambierà un po' anche l'atteggiamento nei confronti dei viaggi cioè i viaggi si ripresino ovviamente si tornerà io spero ma sono sicuro si tornerà a viaggiare eccetera però quella sbornia del viaggio mordi e fuggi per cui uno va una settimana nei posti più incredibili del mondo creando problemi alle culture locali così sta lì una settimana magari non capisce niente poi dell'ambiente perché in una settimana cosa si capisce di un mondo o altro poi si torna indietro ecco questi aspetti qui secondo me forse si dovrà trovare il modo di adattarli e di modificarli cioè la globalizzazione è una bellissima cosa ma è anche una cosa drammatica perché se io globalizzando porto delle specie aliene nel Mediterraneo queste qui arrivano e eliminano subito i competitori per le stesse fonti alimentari mi pare i conigli sono stati introdotti in Australia mi pare tanti anni fa per per un problema dovevano non so bene c'era un qualche motivo hanno distrutto completamente tutta una fauna che esisteva in quel continente quindi anche adesso per esempio nel Mediterraneo hanno trovato tantissime specie che non sono adattate normalmente al Mediterraneo un po' per il cambiamento climatico l'aumento della temperatura ma un po' anche attraverso diciamo delle i viaggi essenzialmente magari attaccandosi alle navi in un qualche modo arrivando arrivando in luoghi che sono che sono lontani da quelli originali abbiamo in chat ancora un intervento di Antonella Carriero che riprende quanto era stato detto più un commento o una domanda la leggo se l'industria alimentare inventa prodotti proteici alternativi a quelli di origine animale li rende appetibili con adeguata pubblicità è possibile aiutare insieme ad altri interventi assortire un cambiamento di mentalità nel consumo di carne sì sì sono perfettamente d'accordo oltretutto io l'ho assaggiata ed è buonissima cioè non penso sia si debba fare un po' di sforzo iniziale ma poi dopo cioè ci si adatta benissimo con questo non voglio non voglio fare un discorso né dal vegetariano che non lo sono né dal vegano però penso che un cambiamento di mentalità e una riduzione della carne sia un bene tra l'altro fa bene anche al fisico è stato dimostrato che un eccessivo consumo di carne per esempio ha degli effetti tumori genici ecco quindi sarebbe utile io penso ridurne il consumo ecco e in questo modo forse cambierebbe tutto poi la filiera diciamo così anche economica legata appunto alla produzione di carne forse in questo modo non ci sarebbe questa pressione per cui vengono tenuti gli animali in condizioni così crudeli e quindi magari si pagherebbe anche un prezzo più elevato ma probabilmente ci sarebbe tutto un meccanismo di compensazione comunque adeguato e non così consumistico diciamo brutalmente consumistico io ho visto in un servizio televisivo non c'entra col consumo alimentare ma ho visto come facevano le pellicce di visone non so se l'avete mai visto come trattano i visoni c'era una macchina veniva messo in una macchina che lo scuoiava automaticamente ma una cosa veramente impressionante e poi li vedevi vivi e dicevamo quelli sono come un gatto quasi cioè dal punto di vista diciamo di come uno lo vede se fa un minimo di salto mentale è un qualcosa di abbastanza inaccettabile allora adesso avrei una domanda io se non ci sono altri ce ne sono due però ce ne sono due allora sono complimenti ah va bene domande grazie la ringraziano per la chiarezza l'efficacia e l'interesse della lezione allora io le volevo chiedere la storia quanto ci insegna cioè le pandemie fermiamoci anche solo alla spagnola quindi a cent'anni fa rispetto alla situazione attuale la lezione in qualche modo è arrivata in che misura è stata recepita il modo di fronteggiare l'attuale pandemia tiene conto delle lezioni del passato in che misura ma diciamo molti storici sostengono che in realtà poi la storia sia destinata a ripetersi sempre e forse si e no nel senso che certo la lezione della pandemia della spagnola era stata dimenticata completamente dimenticata è tornata adesso in grande spolverio con con il covid perché è una pandemia come la spagnola perché è stata la pandemia più terribile quindi il punto di riferimento mentale diciamo così a cui ci si riferisce però è indubbio che a posteriori andando poi a studiare diciamo la pandemia di spagnola molte cose che erano state adottate per la spagnola e molti anche effetti che le misure sanitarie avevano ottenuto proprio fra 18 e il 19 sono in qualche modo hanno influenzato anche molte molte misure prese adesso diciamo cioè anche per convincere la gente anche a livello proprio nonostante il fatto che molti non si mettano la mascherina molti dicano che sono tutte storie che che non è vero e così via però indubbiamente chi un minimo ha cercato di andare a vedere di informarsi a vedere cosa è successo nel passato trova molte analogie e quindi diciamo accetta anche meglio quello che bisogna diciamo assumere bisogna adottare attualmente e diciamo che c'è un insegnamento generale i casi poi sono sempre diversi la storia si ripete sempre ma è sempre diversa c'è un po' questo paradosso però molti aspetti sono assolutamente uguali cioè di fatto le misure fondamentali sono quelle della spagnola ma quelle anche già messe in opera nei secoli scorsi cioè la mascherina l'isolamento poi c'è tutto il discorso della diciamo così della della scienza cioè del fatto che comunque le cose sono cambiate con la teoria microbiologica delle malattie infettive nella seconda metà dell'ottocento perché quello ha generato automaticamente anche le misure per esempio di antisepsi di disinfezione pensiamo per esempio alle epidemie di febbre puerperale che c'erano nell'ospedale maggiore di Vienna nel 1847 48 quando Zemmelweis vede che ci sono due reparti di malattie di ostetricia da una parte ci sono le donne con una percentuale di febbre puerperali quindi febbre che si sviluppano dopo la nascita del bimbo durante il puerperio c'è un reparto in cui l'incidenza della malattia è elevatissima e invece è un reparto in cui è molto bassa e Zemmelweis si rende conto che sono i medici era la malattia dei dottori trasmessa dal fatto che i medici ispezionavano e esploravano gli organi genitali delle donne dopo la nascita e gli studenti di medicina soprattutto i medici portavano gli studenti di medicina a visitare queste donne che non volevano essere visitate ma loro lo facevano perché all'epoca il medico poteva fare quello che voleva e quindi si rende conto di questo e si rende conto che basta lavarsi le mani con una soluzione clorurata e la malattia precipita questo ha insegnato immediatamente cioè diciamo la scienza la medicina in realtà insegna insegna molto perché in ambito scientifico noi ci troviamo in una condizione che è cumulativa cioè le conoscenze si accumulano è diversa la situazione della scienza rispetto per esempio all'ambito filosofico o all'ambito religioso in cui molte volte si riparte da zero con un nuovo tipo di pensiero in qualche modo nella scienza non è così la scienza non si possono raccontare balle la scienza è fatta di metodo e di contenuti i contenuti cambiano continuamente ma si accumulano nel passare del tempo i metodi sono quelli i metodi sono il metodo sperimentale la valutazione il giudizio dei pari la scienza non può essere democratica la scienza è democratica nel senso che ognuno democraticamente deve avere la possibilità di fare lo scienziato di studiare un argomento scientifico ma io non posso stabilire la velocità della luce per alzata di mano la scienza è fatta da gente che ha delle competenze e procede proprio perché un risultato scientifico viene valutato dai pari da chi ha la competenza per giudicare è quello che un errore che si fa frequentemente e che chiaramente viene fatto per aumentare l'audience dei programmi televisivi se io metto il mago hotelma vicino a carlo rubbia sembra che l'opinione del mago hotelma sia come quella di carlo rubbia parlando dei fenomeni naturali magari della levitazione non so di fenomeni della natura ecco e non è così cioè non deve neanche esistere questo non bisogna neanche metterli vicino non esiste però purtroppo molti programmi televisivi questo non lo fanno fanno esattamente il contrario e quindi creano una diseducazione veramente drammatica per cui c'è la gente che è contro i vaccini senza sapere che prima della vaccinazione la vita media era prima di Jenner la vita media era almeno 15 anni meno di quella dopo Jenner morivano un terzo di chi contraeva il vaiolo il vaiolo colpiva più o meno 60% della popolazione un terzo moriva di vaiolo a 5 anni 10 anni la demografia è cambiata grazie alle vaccinazioni e grazie agli antibiotici la demografia umana la storia della medicina è uno dei fattori più importanti della storia più essenziali noi leggiamo i libri di storia e chiaramente ci concentriamo su Napoleone giustamente non voglio dire che non si debba fare su Napoleone eccetera eccetera ma alla fin fine la spagnola ha prodotto più morti della prima guerra mondiale o almeno una quantità analoga ma non ha lo stesso spazio degli eventi della storia eppure dovrebbe averlo perché i fattori i fattori medici sono stati più almeno altrettanto importanti di quelli politici allora perché è importante la storia della politica la storia e non è importante la storia della scienza dovrebbe essere fondamentale secondo me non lo dico prodomo mia ma allora non ho esagerato no no anzi sono d'accordissimo è la storia dell'ambiente anche dovrebbe essere più praticata allora abbiamo ancora beh innanzitutto una richiesta di Raffaello Robagnolo che chiede se ci sono sue pubblicazioni su questi argomenti se può può promuoverle ecco diciamo dunque io in particolare ho scritto un libro che è l'erba della regina che è la storia proprio dell'encefalite letargica ed è la storia di questa straordinaria vicenda per cui la malattia esplode dopo la prima guerra mondiale e in Italia viene portata poi la cura bulgara attraverso diciamo tutta una serie di vicende rocambolesche che videro coinvolta la regina Elena di Montenegro ora vi faccio faccio un'osservazione dopo la prima guerra dopo la seconda guerra mondiale giustamente tutti gli istituti scientifici e tutti gli istituti che portavano il nome Vittorio Emanuele III hanno cambiato nome un uomo responsabile della diciamo della macchia morale peggiore dell'Italia nel corso del novecento cioè le leggi razziali smentendo tra l'altro quello che avevano fatto i suoi i suoi antenati che per primi avevano in fondo liberato diciamo gli ebrei in Piemonte e però tutti gli istituti scientifici che portavano il nome Regina Elena hanno mantenuto il nome c'è il viale Regina Elena Roma c'è l'istituto Regina Elena e così via uno se lo è mai chiesto perché perché e questa è la storia che io ho raccontato i reparti Regina Elena per la cura dell'encefalite letargica si diffusero in tutta Italia dopo la prima guerra mondiale e vennero veramente sostenuti in maniera fortissima appunto da questa Regina e il libro si intitola L'Erba della Regina ed è una storia appunto proprio di una malattia infettiva e del modo in cui venne affrontata e curata quindi questo è il libro diciamo che ho dedicato proprio alle malattie infettive poi ho scritto altri libri su su vari argomenti diciamo sull'ombroso per esempio io sono abbastanza diciamo un esperto di così mi sono dedicato molto all'ombroso ho scritto due libri il genio e l'alienista l'incontro fra l'ombroso e Tolstoi che è un libro un po' particolare però spiega spiega risurrezione il terzo grande libro di Tolstoi che se uno non lo legge conoscendo questo retroscena non capisce come mai quel libro lì abbia questa tirata contro l'antropologia criminale di l'ombroso così forte così è un libro quasi comico e devo dire perché è un incontro comico fra i due perché adesso non la racconto poi ho scritto una biografia di Camillo Goggi il primo italiano a vincere il premio Nobel per la medicina e poi ho scritto La storia d'amore di Alessandro Volta se qualcuno è diciamo interessato è una volta che perde veramente ma è vero tutto vero anche se è un po' un romanzo diciamo però ed è volta che perde la testa per una cantante d'opera e però da questa diciamo da questa situazione nasce la storia che porta alla pila e questo nella convenzione che comunque gli eventi i fatti delle della vita delle persone influiscano anche nella loro scienza se sono degli scienziati perché noi guardiamo ai manuali scientifici e non ci rendiamo contro che ogni riga di un manuale scientifico è il risultato di conflitti contrapposizioni polemiche di storie umane che stanno dietro proprio al dato scientifico poi però la scienza è cumulativa va per conto suo quindi elimina tutto quello che diciamo tutto tutto l'effetto di contorno poi viene eliminato e questa è la differenza fra la storia diciamo in fondo fra la storia della scienza che spesso è vista proprio come storia delle idee scientifiche e non come storia degli esseri umani che le hanno prodotte rispetto invece alla storia della politica o la storia dell'economia in cui gli elementi diciamo così poi della storia fattuale sono molto molto dominanti allora abbiamo ancora una domanda in chat e una richiesta di Grazia Brugnetta chiederei a Grazia Brugnetta di fare la domanda dal vivo sì ecco perché era un po' chiedeva al professore visto che adesso siamo perché prima eravamo molto sull'ambiente quindi non ho osato chiedere adesso che siamo ritornati sul discorso dell'encefalite letargica mi incuriosiva a capire quando lei ha detto questa come dire questa epidemia è stata un po' appunto giustamente soppiantata dalla spagnola c'è una ragione per questo le spiego perché lei sa che tutto questo è finalizzato a un concorso che fanno i ragazzi un progetto e noi stiamo analizzando a proposito della spagnola i quotidiani della nostra città al tempo quindi come quel poco che hanno descritto la spagnola siccome molto spesso si legge abbiamo letto una cosa un po' funziona i necrologi e si leggeva da inguaribile morbo da improvviso morbo e noi abbiamo sempre pensato alla spagnola adesso che lei diceva questo mi è venuto anche il dubbio che non ci sia stato una come dire compresenza di questi due disturbi e se c'è una ragione per cui lei mi dice che in fondo la spagnola cioè è solo una questione di numeri per cui la spagnola ha prevaricato in qualche modo nella storia nell'informazione nell'encefalite o ci sono altre ragioni a me veniva anche in mente che magari i soldati in questi disturbi parkinsoniani potevano essere anche confusi un po' come traumi da guerra o cose di altro genere quindi il soldato che tornava dal fronte un po' insomma fuori fase poteva essere chiedevo a lei se è brevemente o se no se non è breve mi dia dei riferimenti che andiamo a informare dunque indubbiamente all'inizio quando sono esplose entrambe le malattie la encefalite letargica era stata descritta come entità nosografica come malattia a sé però molti ritenevano che fosse una complicanza della spagnola per un po' di tempo si è continuato a pensare quello poi secondo me è stata anche proprio la differenza dell'entità delle vittime perché in Italia ci sono state da 300.000 a 600.000 morti di spagnola di encefalite letargica penso le cifre non si sanno ma suppongo qualche decina di migliaia quindi le differenze erano significative però la differenza che comunque ne ha fatto parlare dell'encefalite letargica almeno per gli anni 30 e anche direi dopo la seconda guerra mondiale se ne è parlato molto di più di quanto poi se ne sia parlato ultimamente perché comunque i reparti neurologici e molti cronicari erano pieni di questi ammalati poi ovviamente molti di questi sono mancati si sono morti quindi l'entità proprio la presenza della malattia si è un po' ridotta e mentre invece il ricordo della spagnola è sempre rimasto fortissimo perché c'erano molte famiglie di persone che avevano avuto vittime diciamo che l'encefalite letargica è ritornata un po' in auge negli anni 70 proprio con Oliver Sachs perché lui appunto avendo scritto questo libro Risvegli in cui provava a dare la levodopa a questi pazienti creando uno scompiglio perché questi pazienti erano rimasti sostanzialmente come in una sorta di freezer per tanti anni e improvvisamente si risvegliavano e avevano i ricordi di 50 anni prima si risvegliavano come se fossero andati a dormire 50 anni prima e si fossero risvegliati 50 anni dopo una situazione assolutamente incredibile tra l'altro non funzionava poi molto funzionava lì per lì in alcuni ma poi dopo dava degli effetti collaterali terribili e infatti poi hanno dovuto poi sospendere però secondo me il motivo fondamentale è la grande differenza nel numero di persone colpite grazie c'è un'ultimissima domanda poi dovremo chiudere per raggiunti i limiti di tempo le due ore tonde tonde allora ancora Antonella Carriero Carriero che chiede i vaccini di nuova concezione sono la base per uno sviluppo più rapido di quelli futuri sì certamente sì direi proprio di sì cioè mentre i vaccini fino agli anni 80 quando non c'era la biologia molecolare attuale non c'era la genetica molecolare i vaccini come venivano fatti diciamo il modello base era quello di Pasteur Pasteur prendeva del tessuto di cane infettato dalla rabbia questo tessuto lo metteva a contatto con la soda caustica con altre sostanze e poi lo iniettava ad un cane sano e vedeva che se era stato trattato con la soda caustica il cane sano non sviluppava la rabbia e invece lo stesso tessuto non trattato con la soda caustica iniettato ad un cane faceva sviluppare la rabbia allora lui prova a dare questo tessuto di cane rabbioso modificato a dei cani sani e questi non sviluppano la rabbia perché il tessuto è stato trattato con la soda caustica aspetta un po' e poi prova ad iniettare a quel cane del tessuto invece rabbioso e vede che il cane non sviluppa la rabbia perché perché il primo tessuto modificato dalla soda caustica gli ha creato una immunità nei confronti di quello patogeno allora sostanzialmente in che cosa consistevano i vaccini si prendeva diciamo si cercava di isolare un agente lo si modificava con delle sostanze lo si iniettava a delle cavie sane poi gli si iniettava l'agente infettivo e si vedeva se la cavia aveva sviluppato un'immunizzazione i vaccini erano fatti così adesso con la biologia molecolare è tutto diverso si prende l'mRNA si fa entrare dentro le cellule l'mRNA codifica per delle proteine si manda dentro l'mRNA che codifica per la proteina spike quindi cosa hanno fatto hanno isolato il virus il coronavirus lo hanno sequenziato hanno visto quale parte del DNA codifica per la proteina spike prendono questa parte del non del DNA scusate dell'RNA perché è un virus RNA prendono questo pezzo di RNA che codifica per la proteina spike e lo fanno entrare nelle cellule sane questo RNA codifica per la produzione della proteina spike la proteina spike sulla superficie della cellula determina una reazione immunitaria cioè è un sistema incredibile è una vaccinazione ma fatta con la biologia molecolare quindi questi sistemi che su cui certamente questa situazione qui mondiale creerà un'accelerazione nelle tecnologie per produrli rapidamente è veramente il futuro per controllare queste malattie sono sicuro che cambierà realmente in maniera drastica l'approccio nei confronti delle malattie infettive benissimo direi che continuano a fioccare gli apprezzamenti per la lezione che naturalmente esprimo anch'io credo a nome proprio anche dei colleghi degli istituti storici abbiamo avuto direi una lezione che indubbiamente ha approfondito molte questioni ha dato molti stimoli spero che lo stesso possa essere poi per gli studenti che parteciperanno al concorso attraverso appunto quello che i docenti rappresenteranno loro naturalmente questa lezione sarà fruibile anche registrata nei prossimi giorni ci aggiorneremo su tutte le lezioni fatte finora in attesa di concludere poi con quella di giovedì di giovedì